Ospiti d'eccezione al Teatro della Fortuna per la presentazione di Opera Studio. Andrea Bocelli, Marcello Rota, Leone Magera e Franco Fussi hanno illustrato il progetto multimediale per lo studio e la pratica del canto lirico. Ascoltiamo dalla voce del maestro Rota, supervisore dell'editing audio-video, le caratteristiche di Opera Studio. Io ho pensato di registrare qualcosa che fosse di operistico completo. La mia idea è stata appunto quella di cominciare questo ciclo registrando Tosca. Tosca è un'opera di Puccini che non ha bisogno certamente delle mie presentazioni e sicuramente è una delle opere comunque più eseguite al mondo. Il sito naturalmente è dedicato a tutti i professionisti che intendono usufruire di un materiale proprio per studiare l'opera. Nel DVD naturalmente vi aiuterà a imparare tutta l'opera. In particolare ci tengo a dire che proprio che è stata registrata con una grande orchestra, un grande coro e quindi è altamente professionale. Esisteranno infatti dei sottotitoli e la mia funzione sarà anche quella proprio di suggerire. Svanì per sempre il sogno mio d'amore. L'ora è fuggita E muoio disperato Madre lingua Perché ovviamente l'opera si deve eseguire in italiano E' anche molto utile per le persone che non conoscono bene l'italiano o comunque persone che non notavano affatto. In più naturalmente io sarò ben lieto di darvi dei consigli pratici di indicazioni modo anche di fraseggiare, modo proprio anche della pronuncia Oppure anche proprio di entrare veramente nel personaggio del DVD Al termine della presentazione il soprano Patrizio Orciani ha dato una dimostrazione pratica dell'uso dello strumento informatico Al termine della presentazione il soprano Patrizio Orciani